Ho pensato tanto a questo momento e avendo lasciato la Samp quando ero poco più di un ragazzo, tornarci adesso quando si ha un po' più di esperienza, è bellissimo praticamente. Credo di potermela godere molto di più e essendo stato tanto lontano adesso so cosa vuol dire avere la fortuna di essere nella Sampdoria. Credo che quando il perché di una persona è forte è il come lo si trova. Quindi c'è tanto lavoro, c'è tanta dedizione. Io vengo qua, metto completamente in discussione, lavorare, 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 essere completa a disposizione dell'allenatore e della squadra perché se la squadra e i compagni fanno bene, il primo a esultare sarò io su tutta la linea. Con il capitano, tanti anni che ci si incontra, poi si ha passioni in comune, quindi abbiamo la fortuna di sentirci. Poi ci sono tanti altri, con Edgar ho giocato, quindi con tanti compagni ho avuto la fortuna di esserci e avrò la fortuna di essere anche con i nuovi, di legare. Per quanto riguarda il dottore, Giorgio, i ragazzi, i magazzinieri, queste secondo me sono sempre le persone che fanno la differenza in una squadra di calcio perché sono loro che l'amano follemente come l'amano magari i tifosi, quindi sono sempre legati ed è un piacere rincontrarli per la passione che ci mettono. Sono sincero, ho ricevuto tanti messaggi ma non ho fatto in tempo ancora rispondere a nessuno perché volevo gustarmi questo momento, perché è un momento talmente intimo, talmente bello e poi i ragazzi penso che abbiano apprezzato il gesto, ma più che il gesto, che magari è facile fare le parole, la conseguenza di quel gesto, che per me è voluto dire tanto, sacrificio professionale perché ho fatto un percorso difficile, in lotto ho perso tutto quello che avevo conquistato negli anni perché la titolarità di una porta di Serie A è difficile da conquistare, però credo che un uomo quando spende delle parole deve spendere l'assenso e deve dare proseguo ai fatti, se no quello che dice o lui valgono veramente poco.